Benvenuti a tutti per il secondo webinar della ditta Rekkeweg insieme al dottor Olaf Kuhnke. Oggi ci spiegherà come l'ansia, la depressione e lo stress possono influire sul sistema immunitario e di conseguenza sul covid-19. Volevo ricordarvi che il 11 maggio di quest'anno presenteremo con il dottor Aquista Pace lo studio osservazionale sull'R47. Vi aspettiamo prossimamente e adesso vi auguro una buona continuazione con il dottor Kuhnke. Grazie dottore. Grazie Paride, grazie dell'introduzione. Grazie dell'invito e buongiorno cari colleghi, cari colleghi, signori e signore. Anche io vi do il benvenuto al webinar di oggi. Ringrazio naturalmente alla ditta Rekkeweg per il suo impegno e per l'opportunità di esporre questo argomento, il legame tra il sistema immunitario e lo stress psicologico. Tanto più che sappiamo tutti che siamo tutti in una situazione speciale che è descritta dalla parola d'ordine di covid. In questo momento un po' strumentalizzato anche da parte dei mass media, dobbiamo prendere atto di un drammatico aumento di disturbi psicologici, specialmente i disturbi di ansia e la depressione, la quale vorrei adesso discutere un po' di più. Inizierò con una descrizione dettagliata del fenomeno della depressione, che sarà forse anche un po' di interesse, che non è un problema completamente nuovo. Addirittura le prime osservazioni, come potete leggere, risalgono all'antichità, ma è stato riservato al scorso secolo la descrizione ancora più approfondita in seguito alle ricerche di Sigmund Freud. Anche il fatto che è stato riconosciuto una depressione o altri fenomeni psicologici come una specie di valvola per le tensioni interne per evitare, almeno questa sarebbe una interpretazione, per evitare danni agli organi interni, un pensiero che tra l'altro troviamo già nella medicina cinese. Solo brevemente per l'amore di completezza ed esattezza vorrei fare riferimento alla classificazione convenzionale dei disturbi psicologici. Di qui la depressione è solo uno di tanti disturbi, come potete vedere. Sulla prossima diapositiva vedete un po' qualcosa di veramente interessante, un po' la frequenza approssimativa dei vari disturbi mentali classificati in Germania e in Svizzera in questi ultimi anni. Possiamo comunque assumere tranquillamente che queste cifre adesso sono proporzionalmente sempre le stesse, però in continuo aumento. In cima troviamo disturbi d'ansia e sicuramente ognuno di voi che lavora nel proprio studio può confermare che abbiamo più che mai a che fare con questi disturbi. E già al secondo posto si trova la depressione. Si vede su questa diapositiva anche come si trovano, in quale misura, si trovano donne e uomini in queste patologie. Che cosa si intende con disturbo affettivo? Cosa sono gli affetti? La definizione semplice e breve è che si tratta della totalità dei sentimenti e degli stati d'animo. I tipici sintomi di difetti, di disturbi degli affetti sono mancanza di forza, che chiaramente può avere mille diverse cause, uno sconforto spesso non molto chiaro, tensioni interne, sentimenti di insufficienza, sia sul livello fisico, sia su quello psicologico. A volte i pazienti esprimono anche la incapacità di sentire ancora i loro affetti. Questo è un disturbo più raro, ma comunque esistente. Molto più raro sono difficoltà di frenarsi, in modo che i pazienti si trovano in una situazione di permanente euforia. Raro, comunque esistente, vediamo un esempio più in là, in questa presentazione, la così chiamata paratimia. Vuol dire che le sensazioni espresse non coincidono, non combaciano con una situazione vissuta. Un esempio, una persona riceve una notizia di un lutto e comincia a ridere. Questo sarebbe il tipico esempio per una situazione paratimica. La depressione, una psicopatologia affettiva, è molto comune, come sappiamo, in aumento anche. C'è un'abbastanza grande chance, un pericolo abbastanza grande, di subire una fase di depressione durante la propria vita. 25% dicono diversi studi. Per lo più è un fenomeno che in passato era in età adulta, adesso sappiamo che nella fase presente è sotto influsso di varie informazioni, varie informazioni, la cifra tra i giovani, i bambini, anche adolescenti, è in crescita. Una grande parte anche delle persone è colpita dopo i 60 anni e il rapporto donne-uomini è di circa 2 a 1, qualcosa che colpisce più allora le signore. Questa è l'attuale definizione della depressione, una fluttuazione delle condizioni generali, come tristezza, sfogliatezza, rassegnazione, che si appattiene alla normale vita, che comunque si trova adesso in una fase cronica. più di due mesi sarebbe la definizione ufficiale, però possiamo naturalmente anche partire dall'idea che una vera e propria e grave depressione si può trovare anche dopo una fase più breve. Quali sono i tipici problemi che portano un paziente da noi nel nostro studio medico o da terapista? Non è sempre facile arrivare all'avere propria diagnosi di una depressione, poiché i sintomi sono spesso un po' vaghi, anche fuorianti, possiamo dire che la depressione è praticamente una specie di scimmia tra le malattie. Purtroppo viene anche un po' trascurata l'idea che il paziente davanti a me abbia una depressione perché i sintomi non sono bene facilmente da trovare nel nostro pensiero fissato sulla vista. Radiografia, ecografia, un attack, una risonanza, ci danno una conferma di un danno proprio presente, la biochimica, il laboratorio o altrettanto, ma quello che ci dimostra o che accusa un paziente è a volte molto difficoltosamente da inquadrare. Non si può misurare una stanchezza, non si può misurare cosa vuol dire quando un paziente dice mi sento inutile, non ho più gioia di qualcosa, lo sport non mi dà più soddisfazione o altro. In generale i pazienti, comunque dobbiamo chiedere anche per questo, perdono l'interesse in certe attività che forse avevano esercitate prima, non si muovono più come una volta, chiaramente in una fase in cui il non movimento è quasi una cosa ordinata è difficoltoso di trovare la linea tra la situazione patologica e quella ancora fisiologica. Spesso comunque accusano i pazienti che hanno delle paure, però infondate, non possono proprio nominare un perché, un motivo. Ci vuole naturalmente molta sensibilità e andare proprio nella profondità dell'individuo per arrivare a pensieri suicidali, suicidi. Più facile è già arrivare ai molto frequenti sintomi vegetativi. Troviamo spesso problemi tipo aritmia cardiaca, vertigini, tendenza al collasso e tutto quello che trovate elencato qui. Altrettanto difficoltoso è valutare quanto sia grave una situazione del genere fino a quale punto posso io, come medico in uno studio, come terapista, lavorare con certe sostanze biologiche, naturali, quando ho bisogno forse di un aiuto di un altro professionista, di un psicologo, o psichiatra, oppure quando devo consigliare al paziente di fare rincorso a ripararsi con una terapia stazionaria. Questo è un molto semplice, comunque valevole schema per valutare, inquadrare la situazione, la gravità della situazione. sintomi principali devono essere accompagnati da sintomi aggiuntivi e quando la somma di questi sintomi supera una certa soglia è eventualmente il caso di chiedere un aiuto in più. Questo abbiamo già in parte potuto presentarvi. è sempre molto stato molto discusso da dove viene una depressione e sì le origini sono così diversi quanto sono gli esseri umani. C'è chiaramente una disposizione genetica, questo è indiscusso. ci sono chiaramente i pazienti che dimostrano nella esplorazione dei traumi psicologici durante l'infanzia lo spilancio dei neurotrasmettitori è una cosa molto interessante che si trova sempre di più facendo gli appositi esami. Uno spilancio ormonale più di quanto pensiamo contribuisce a questo calo in un buco nero. Chiaramente ci sono le sfide acute come un lutto una separazione un fallimento e sicuramente vedremo ancora di più in questi prossimi mesi e anni. Le malattie somatiche chiaramente contribuiscono e come al fenomeno della depressione e sì influssi tossici molto difficoltosamente da provare penso solo al problema dei metalli pesanti metalli pesanti ambientali alluminio nell'aria arsenico eventualmente nell'acqua mercurio nelle vecchie amalgami in bocca e molto altro. Ho appena parlato delle malattie croniche e ovviamente dobbiamo siamo costretti ad escluderle o trattarle prima di trattare una depressione o almeno farlo allo stesso momento. Ecco una lista che non vorrei elencare una voce dopo l'altra per ricordarvi di quanto sicuramente sapete tutti. Allora come e dove interveniamo generalmente quando trattiamo un paziente depresso voi tutti sapete perdonate le ripetizioni che il punto quello tipico di patenza biochimico è il luogo di trasmissione degli impulsi il punto di contatto tra i nervi la sinapsi o le sinapsi tra i differenti nervi. Si può vedere nell'immagine ci sono numerosissimi punti di contatto tra i nervi e la trasmissione delle informazioni avviene quando le cosiddette vescicole che potete vedere soprattutto nella parte destra della immagine della sinapsi quando questi vescicoli che contengono le sostanze messaggere vengono trasferite da un nervo all'altro. Solo uno sguardo sui farmaci comuni che sono stati usati o che sono ancora tanto usati per il trattamento della depressione non vorrei andare più nella profondità lo sapete tutti. Purtroppo queste medicine sono dotate di tanti effetti collaterali che in prima linea colpiscono il sistema neurovegetativo aggiungendo forse qualche disturbo a chi già soffre di fenomeni vegetativi. Purtroppo devo menzionare anche questo che gli effetti desiderati con le medicine convenzionali non sono spesso quelli che vogliamo vedere soprattutto gli effetti a lungo termine sono limitati. a questo punto vorrei terminare le osservazioni precedenti e venire più vicino all'argomento vero e proprio questo è lo stress causato dalle situazioni psicopatologiche e come possiamo contrastarlo in modo da essere protetti dall'aggressione al nostro sistema immunitario. La prima domanda è esiste questo problema davvero o è un problema finto? Gli organismi ufficiali almeno dicono o semi ufficiali come la Croce Rossa dicono di sì che la situazione o covid colpisce la salute mentale di una persona su due che sarebbe una cifra altissima la spiegazione sembra abbastanza plausibile perché lo stress che tutti sperimentiamo ha un effetto assolutamente sistemico vuol dire colpisce tutto l'organismo ecco le strutture che sono più che altro i rappresentanti i luoghi dove si manifesta questo stress un breve ricordo da leggere in un minuto tranquillo forse anche per metabolizzare lo stress attuale sarebbe questa diapositiva che definisce un po' più da vicino lo stress allora è lo squilibrio tra le sfide alle quali siamo esposte e le nostre risorse chiaramente questo è una cosa molto molto individuale siamo o capaci di adattarci a questa sfida oppure no o subiamo un crollo le reazioni di una fase acuta di uno stress di una situazione stressante sono prima di tutto reazioni sensibili che corrispondono alla strategia di sopravvivenza del nostro organismo ho elencato qui vi faccio vedere qui gli organi che in prima linea sono colpiti la ipofisi piccolissimo organo che si trova nella profondità circa in mezzo agli occhi la tiroide secondo seconda immagine la ghiandola sorinale chiaramente e poi gli organi delle donne degli uomini cioè ovaia o testicoli questo lo conoscete tutti che abbiamo bisogno per superare una situazione di stress di un funzionamento liscio intatto di questa asse ormonale alla fine deve essere una soddisfacente produzione messa a disposizione di energia adenosine trifosforo una possibilità di reagire sia con la circolazione sia anche con la respirazione a quello che dobbiamo fare diventa comunque qualcosa di diverso quando una situazione di stress continua in modo permanente che la sfera emotiva sia strettamente connessa al sistema immunitario questo è ampiamente noto ma lo vedremo comunque di nuovo da un lato troviamo che c'è una diminuzione delle prestazioni immunitarie dovuta solo all'indecchiamento abbiamo un calo nella produzione di certe cellule abbiamo anche un cambiamento del sistema immunitario dell'intestino già con l'età un motivo per questa involuzione diminuzione delle prestazioni è la degenerazione della ghiandola del timo e questo processo della degenerazione del timo ecco una rappresentazione della situazione anatomica questo è notevolmente accelerato questo degrado quando la ghiandola surrenale è in continuazione attivata vuol dire il cortisolo oppure anche la presenza di processi infiammatori cronici velocizza questo degrado della ghiandola anche questa di oppositiva dovrebbe sottolineare il fatto ecco uno studio scientifico che sottolinea chiaramente ciò che ho appena detto la produzione di cortisolo causata dallo stress permanente ha importanti conseguenze sulla risposta immunitaria cellulare e la sensibilità ai segnali del corpo stesso contro l'infiammazione diminuisce la sensibilità diminuisce possiamo quindi giustamente chiederci se il tipo di comunicazione anche ufficiale attualmente in corso tra governi medi media e popolazione sia utile per superare questa crisi in modo sano causare creare ansia ogni giorno non può essere molto ideale questa immagine del documento scientifico appena citato è talmente complicato che non l'ho capito anch'io per essere sincero ma l'essenza comunque posso spiegare e vuol dire che la sensibilità dei recettori degli steroidi che si trovano su tutte le cellule che questa sensibilità è quindi l'effetto positivo del cortisolo che ha un effetto positivo come sappiamo diminuisce sotto l'esposizione a una situazione stressante e permanente questo è molto importante che perdiamo la capacità di reagire in modo adeguato sul livello mentale ma anche sul livello cellulare quando una situazione non finisce lo stress cronico non solo indebulisce il nostro cervello questo è una conoscenza una cosa trovata non tanto tempo fa ma sappiamo oggi che proprio il cortisolo importante che è può bloccare le prestazioni del cervello frontale rendendo la nostra capacità di ragionare anche di tenere proprio presenti le cose appena accadute short term memory peggiorano questo è una cosa da non dimenticare il cervello e il nostro sistema immunitario sono intimamente legati e devo annoiarvi di nuovo con questa diapositiva perché il tessuto connettivo è il luogo dove si incontrano intimamente questi due sistemi il sistema centrale vegetativo e le cellule non solo degli organi ma anche le cellule tipo monociti di cui abbiamo potuto parlare nell'occasione precedente sono qui reticolati in un contatto intimo e stanno discutendo per così dire vuol dire la ipofisi l'ipotalamo che sarebbe il filtro anche delle emozioni si incontrano quasi dappertutto nel nostro organismo allora che cosa fa il cortisolo l'ormone della corteccia della ghiandola sovinale è un un ormone anabolico e gli effetti del cortisolo sono come già spiegato utili entro certi limiti ma solo se la situazione di esposizione dello stress è limitata nel tempo e nell'intensità altrimenti se va avanti la situazione senza essere interrotta senza essere frenata abbiamo gravi effetti collaterali da affrontare questo lo sapete tutti che il cortisolo anche dato come medicamento porta a gravi alterazioni del metabolismo lipidico aumento di peso pressione sanguigna disturbi del sonno mancanza di energia diabete sono tutti ben noti effetti collaterali un altro studio scientifico andiamo ancora più nella profondità della materia immunologica questo lavoro qui mostra come l'interazione di vari fattori può portare a effetti distruttivi addirittura del sistema immunitario e in effetti alla fine anche sull'intero organismo vuol dire insomma tutto in sintesi che lo stress psicologico altera l'attività dell'asse ipotalamo ipofisario quindi anche sugli organi seguenti come la tiroide che può produrre una malattia autoimmune tipo un morbo di Hashimoto chiaramente si vedono fenomeni come pressione alta frequenza alta del cuore ma sul livello biochimico anche una dominanza una crescita dei valori di certe intelliochine intelliochina 1 ad esempio potrebbe essere un fattore molto importante per sviluppare dei disturbi reumatici la intelliochina 6 troviamo in molti processi infiammatori anche del cancro stessa cosa vale per il TNF alfa e molti altri fattori che conosciamo al giorno d'oggi in poche parole lo stress cronico tramite questi intelliochini può favorire la distruzione di certi organi diversi fattori scatenanti questi possono essere agenti patogeni patogeni associated molecular pattern o frammenti di un tessuto dopo un incidente portano a ciò che conosciamo come una infiammazione tradizionale normale con i tipici sintomi già tramandati da Rudolf Hirchhoff nel 1850 circa calore dolore arrossimento e un gonfiore di un tessuto questo è in prima linea un'azione ragionevole qualcosa che aiuta a superare la situazione in fasi cronici comunque abbiamo qualcosa di completamente diverso oggi come oggi si parla addirittura di inflammasomi come potete leggere in questo testo inglese vuol dire di complessi proteici che sono in grado di non solo accompagnare una reazione infiammatoria immunologica ma possono anche creare danni alle cellule in questo momento viene ricercato tantissimo soprattutto negli Stati Uniti su questo fenomeno di questi complessi proteici e proprio nella situazione della malattia attualmente molto discussa sono stati trovati questi inflammasomi che ovviamente sono in grado anche di portare a una escalation di infiammazione in generale e sono e questo non so prende tanto in grado quindi di fare da grilletto da trigger come si dice in inglese per altre malattie che sono al giorno d'oggi riconosciute come malattie del sistema immunitario malattie autoimmune un altro studio molto interessante per chi si interessa di questi legami è chiaramente quello della rivista di scienze dello sport allora sapevamo già da sempre che l'esercizio fisico era una cosa in assoluto importante per mantenere la buona salute sappiamo che soprattutto il sistema immunitario ne approfitta tanto per stimolare non solo lo scambio di leucociti tra circolazione e tessuto vuol dire quando siamo in movimento quando siamo allenati certe cellule ad esempio monociti sono anche facilmente in grado di lasciare i vasi per andare nel tessuto per fare i loro compiti in un altro ambito un vantaggio significato c'è scritto qua è l'esercizio che serve come una semplice strategia per arricchire il nostro sangue con cellule importantissime della difesa come le cellule del tipo T linfociti allora e cellule natural killer assassine naturali però c'è sempre un però è una buona notizia per il tipico couch potato come me lo sport di punta allora lo stress nello sport fa proprio il contrario vediamo allora quando vediamo questa statistica qui che l'attività fisica l'attività fisica ad alto impatto è definitivamente dannosa per il sistema immunitario cioè vediamo un un netto cambiamento nel nel rapporto soprattutto di neutrofili e linfociti questo rapporto qua con una prevalenza dei neutrofili è già l'indicatore di una situazione di infiammazione rapporti di questo genere troviamo tra l'altro anche in situazioni di progressione di un tumore quindi tutto sommato vuol dire che lo sport moderato aumenta le capacità immunitarie lo sport di punta qui rappresentato dalla corsa di marathon e proprio il contrario diminuisce le prestazioni immunitarie ecco un breve riassunto mentre l'allenamento moderato promuove il nostro sistema immunitario in modo positivo ecco un elenco di studi effettuati su donne in prima linea donne in sovrappeso con uno stile di vita sedentario che erano sottoposte a un programma di esercizio moderato che poi hanno trovato un miglioramento molto significativo per il loro sistema immunitario molto meno pazienti molto meno giorni in malattia tra queste donne trattate semplicemente con un programma di sport anche questa questa diapositiva sottolinea quanto ho detto prima un modello di curva a lunga che dice più o meno la stessa cosa uno che non fa nulla non ha un sistema immunitario buono uno che fa troppo ancora meno addirittura e che fa un po' di sport in modo regolare però ne approfitta di più un altro studio che sostiene quello che ho potuto presentarvi prima uno studio effettuato su giovani che stavano per fare degli esami allora persone sotto stress comunque una selezione già positiva giovani che fanno un esame normalmente non non sono in cattiva salute ma si trattava di giovani sani e vediamo molto chiaramente che un allenamento forte o addirittura eccessivo può aiutare contro la depressione conoscete sicuramente tutti gli articoli sui sportivi che corrono per aumentare la loro serotonina ma in verità è la depressione anche l'unico aspetto che viene influenzato in modo positivo tramite lo sport di punta mentre altri aspetti l'ansia ad esempio la percezione dello stress questo peggiora e l'effetto più buono si trova nel gruppo dei pazienti che studenti in questo caso che fanno uno sport moderato quindi nell'uno nell'altra l'ideale dovrebbe forse essere più in questo ambito vorrei concludere questa prima parte delle mie osservazioni con uno sguardo a una pubblicazione scientifica ma molto interessante il fenomeno della morte cardiaca improvvisa negli atleti di punta si conosce almeno in parte qui è stato presentato uno studio recente che dimostra un numero sorprendentemente alto di malattie di problemi cardiaci nei giovani atleti in sintesi malattie soprattutto che colpiscono il pericardio sono molto molto frequenti e quindi anche la capacità o incapacità di riprendersi dopo un'infezione oppure l'infezione era proprio il movente per una malattia cardiaca eventualmente asintomatica questo studio sicuramente dovrebbe darci molti pensieri mettere luce anche su tanti fenomeni nel campo sportivo raccomando di tenere nella vostra memoria questo legame in sintesi lo stress può causare tutto quanto elencato peggioramente di problemi di salute peggioramente di problemi di salute mentale e aumento purtroppo anche dell'uso di tabacco alcol e altre sostanze cosa possiamo adesso fare noi come si procede nell'ambito della medicina complementare il campo è talmente vasto talmente grande che posso solo prendere qualche punto qualche appunto che sapete voi come professionisti naturalmente tanto quanto lo so io che abbiamo moltissime possibilità sempre a condizione che la paziente il paziente vuole anche partecipare in modo attivo posso chiaramente in questo momento solo menzionare la agopuntura dell'orecchio come un esempio tipico di un metodo regolativo anche la terapia neurale ad esempio sarebbe un tale un tale metodo per diminuire lo stress sapete dell'influsso dell'agopuntura e della procaina per chi fa la terapia neurale sul sistema vegetativo addirittura riguardo all'attività al partecipare del paziente addirittura la OMS ha trovato qualcosa di assolutamente nuovo che per le malattie psichiatriche uno stile di vita salutare è utile non so quanti soldi hanno speso per trovare queste saggezze attività fisica astinenza dalla nicotina peso corporeo adeguato alimentazione sana e glicemia e pressione atriosa normali imponente cosa sanno fare quelli della OMS allora un esame rigoroso è naturalmente la condizione sine qua non per avvicinarsi a un paziente che si lamenta di qualcosa che possiamo definire depressione ansia esaurimento dobbiamo sempre siamo costretti ad escludere altre patologie soprattutto le infiammazioni silenziose dobbiamo chiedere per le abitudini individuali come l'equilibrio giorno-noto sappiamo uno che lavora di notte ha un potenziale elevato di soffrire di una malattia acuta o anche cronica chi fa home office è in particolare modo esposto a un problema poco menzionato quello del blue light cioè l'emissione del computer che fa pensare ai centri del nostro cervello che sia sempre giorno sappiamo che i pazienti o quelli esposti a un permanente lavoro davanti al computer dormono o meno hanno una ridotta produzione di melatonina la situazione familiare chiaramente incide le circostanze domestiche campi elettromagnetici non intendo solo quelli appena menzionati dobbiamo fare almeno un piccolo check di laboratorio segni di infiammazione un profilo ormonale e posso dalle ultime esperienze avute qua nel mio studio assicurarvi che abbiamo più che mai problemi ormonali anche tra le persone molto giovani cioè nella terza decada dell'età abbiamo già degli uomini e delle donne con gravi disfunzioni ormonali la disfunzione mitocondriale è sicuramente un po' meno bene da diagnosticare esistono possibilità sono comunque un po' costose anche più facile già diagnosticare la situazione dei neurotrasmettitori se un paziente davvero ha bisogno di un SSRI bloccante cioè deve davvero avere un rialzo della serotonina sono presenti metalli pesanti queste possibilità esistono già da molto tempo si trova in una situazione di buona autoregolazione questo si può vedere più o meno con un profilo dell'acidità non acidità dell'urina com'è la riserva di iodio anche un test dell'urina effettuato in qualsiasi buon laboratorio oppure anche la part rate variability solo uno sguardo sulle possibilità otomolicolari triptofano ad esempio come precursore della serotonina e della melatonina ecco questo ci sicuramente ricorderà un po' del legame tra triptofano serotonina melatonina questo però funziona solo questa cascata di produzione quando abbiamo abbastanza vitamine a disposizione e se non abbiamo il disturbo tramite uno stile eccessivo di vita cioè chi soffre di diabete chi ha la glicemia alta chi beve troppo chi fuma troppo ha già di per sé un rallentamento in questo in questo metabolismo alcune caratteristiche della serotonina solo siano menzionate solo velocemente ha un effetto riparatore sul sistema nervoso ma anche su altri organi questo si dimentica spesso anche il fegato e il pancreas ne approfittano e poi come già menzionato quando siamo in una situazione di deplezione di ormoni abbiamo un problema nella produzione la melatonina l'ultimo ormone arrivato per così dire negli studi medici o anche di terapisti altrettanto ha moltissime qualità per la rigenerazione del sistema nervoso per il ritmo biologico anche qui vale che dobbiamo fare attenzione perché anche la melatonina non è che solo si prendono un paio di pillole ma dobbiamo sempre puntare sulla produzione endogena di questo importantissimo ormone che dipende anche dalla genetica da uno stile di vita equilibrato vuol dire andare a letto alla sera alzarsi non troppo tardi alla mattina viene interrotta la produzione della melatonina quando abbiamo la cena tardiva quando beviamo tanto alcol alla sera eccetera un medicamento un minerale dimenticato sia solo menzionato a questo punto il litio che forse sarà un po' risuscitato perché ha in bassissime in bassi dosi un effetto antidepressivo un po' dimenticato perché il litio è stato utilizzato in grandissime quantità nella psichiatria convenzionale per curare quadri clinici di schizofrenia facendo in grosse quantità anche importanti effetti collaterali uno sguardo sulla fitoterapia forse una delle medicine più più antiche nel complesso nell'edificio della medicina in generale vorrei a questo punto solo menzionare le sostanze singole come la avena ci sono anche le le tisane di avena la valeriana forse è la sostanza più ben nota il lupolo tra gli uomini sicuramente diffuso o liperico che sicuramente ha un giustificatamente un posto molto importante e anche nella è riconosciuto anche nella medicina convenzionale l'omeopatia complessa di cui vorrei parlare adesso ha indubbiamente una posizione molto importante anche nella mia pratica quotidiana la terapia complessa significa la combinazione a differenza dell'omeopatia classica una combinazione di diverse sostanze omeopatiche in un basso livello di diluzione si fa attenzione che i partner delle rispettive miscele abbiano una direzione d'azione comune e questo è il principio la combinazione di diverse sostanze a bassa diluzione omeopatica ahia questo è molto bello perché ci ricorda anche delle possibilità tra virgolette tentativi di trattare i pazienti e questo ancora nel ventesimo secolo la lobotomia è stata utilizzata credo fino agli anni 50 questo ricorda un po' il tampone che fanno al giorno d'oggi comunque andava ancora un po' di più nella profondità del cervello questo naturalmente non lo faccio neanche io nel mio studio a Jacque al Medioevo esistevano già i tentativi di trattare i pazienti quindi non siamo così tanto distanti ok il dosaggio delle sostanze omeopatiche soprattutto quando si tratta di sostanze complesse è molto semplice due cose dobbiamo fare dobbiamo vedere si tratta di un caso acuto un caso cronico e che età ha il nostro paziente quanto è forse anche corposo e poi ci aiutano queste tabelle di dosaggio per tutte le situazioni presenti questo posso solo menzionare le sostanze interessanti per l'argomento trattato sono tutti segnalati qui con il giallo questo colore che indica che abbiamo davanti a noi un medicamento proprio per la sfera psicologica e dal grande arsenale dei medicamenti della Rekebeck vorrei presentarvi alcuni molto frequentemente devo dire quasi ogni giorno vedo che un paziente ha bisogno della neuroglobina l'UMA R47 un medicamento molto utile che può essere utilizzato anche durante la giornata ecco i diversi ingredienti e a chi ha studiato l'omeopatia tutti ben conosciuti come il Moshus Ignatia che parliamo ancora in seguito la Pulsatilla Lachesis e Glonuinum Glonuinum il tipico medicamento il tipico ingrediente per le situazioni di tachicardia di una ipereccitabilità del cuore il tipico temperamento nervoso la paura certamente un medicamento che si può quasi vedere le pulsazioni eventualmente anche un medicamento interessante per la emicrania va molto bene assieme alla Lachesis il tipico quadro sarebbe la donna in piena menopausa con l'insopportabilità del calore con la sensazione di oppressione tutte le paure tutti i sintomi associati parleremo ancora più in là della Ignatia questi principi sono ben tollerabili non ho mai vissuto un qualsiasi effetto collaterale con tutti questi medicamenti devo dire soprattutto si lasciano abbinare alla medicina alla terapia già esistente quindi possiamo sempre tranquillizzare il paziente di cui domanda sarà sempre va bene con le medicine che ho già si va bene agiscono su un livello completamente diverso quindi possiamo essere tranquilli e non c'è nessun rischio di dipendenza chiaramente ho parlato brevemente della monoterapia prima parlando della fitoterapia delle tisane si conoscono nel frattempo molto bene queste sostanze che hanno trovato come già detto un riconoscimento scientifico ufficiale una caratteristica comune essenziale di queste sostanze che ritroverete anche nelle gocce complesse della rechavec è che agiscono sui recettori GABA gamma amino buter soire questi recettori GABA sono anche quelli che sono richiesti che sono attivati o no dai pazienti che ricevono ricevevano le benzodiazepine molto interessante che la natura aveva già antecipato questo principio terapeutico aiutano quindi a lasciare andare rilassarsi sappiamo dalle benzodiazepine anche che sono stati utilizzati come mio rilassanti e quindi funziona anche con le nostre piante o gli omeopatici un problema più che mai diffuso al giorno d'oggi per la insonnia come tutti sapete il problema con i classici soniferi che hanno un effetto ipnotico ipnos in greco vuol dire il sonno ma quasi mai permettono un sonno proprio rigenerativo un sonno riposante in molti casi e questo si riferisce soprattutto ai vecchi medicamenti di questo tipo causano effetti dopo una spornia proprio mentre questo medicamento il Quieta R14 che abbina otto diversi principi non è dotato di nessuno di questi effetti collaterali ecco questa bellissima immagine e abbiamo qui gli ingredienti che potete allora informarmi e conoscete sicuramente l'uno o l'altro tra cui di nuovo la Ignazia Ignazia è un fenomeno un personaggio che troviamo abbastanza frequentemente sono persone iper emotive ma un po' difficoltose da essere avvicinati in qualche caso rifiutano adesso addirittura l'aiuto una persona che soffre ma non permette facilmente l'aiuto da un'altra persona l'umore basso è sempre tutto molto buio anche qui è importante sapere che non interrompe questo R14 il ritmo sono sveglia addirittura potete raccomandare ai pazienti di prendere questo medicamento anche durante la notte quando c'è il problema del sonno interrotto ecco e si abbina molto bene questo quieta R14 con R33 soprattutto quando i pazienti soffrono di fenomeni molto molto noiosi quanto spasmi muscolari non è solo il magnesio che manca questa è sempre la prima reazione di prescrivere il magnesio che in molti casi funziona anche bene però ci sono anche altre sostanze che possono avere un effetto molto positivo sulla ipercontrazione dei muscoli come la bella donna oppure il cuprum metallicum due sostanze omeopatiche ben note per il loro effetto rilassante zincum sarebbe più l'aspetto nervoso quando non possono tenere fermi le gambe i pazienti dobbiamo pensare a un medicamento che contiene lo zinco anche questo tipo di pazienti arriva più che mai nei nostri studi pazienti con disturbi della concentrazione della concentrazione per loro è questo imbelion il 54 un buon rimedio soprattutto in questa situazione particolare con le proprio allarmanti restrizioni alla libertà di movimento sono che sono importanti fattori di rischio promotori dei vari disturbi dell'attenzione in questo momento dobbiamo pensare a un medicamento del genere sempre di più studenti giovani e meno giovani che si trovano in queste fasi di disorientamento di disattenzione chiaramente ansia anche un aspetto molto importante coperto un po' da imbelion tramite arsenicum album sapete arsenicum album uno dei grandi medicamenti della materia medica contro l'ansia ecco la descrizione più dettagliata mettiamo avanti ignazia di nuovo torno a questo medicamento molto interessante saranno prevalentemente le donne che ne hanno un beneficio questo è vero composto da queste tre sostanze la ignazia stessa zinco che abbiamo già potuto discutere e calium allora potassio fosforico una sostanza che molti tra di voi conoscono sicuramente il grande medicamento del dottor schisla omeopata del diciannovesimo secolo contro i disturbi neurotici nervosismo irritazione una buona combinazione per queste donne irrequiete in ansia in una continua contrazione possiamo anche dire ignazia vorrei aggiungere è il dolore silenzioso il dolore silenzioso che la persona non esprime eventualmente subito con molti sintomi opposti ho già menzionato persone che non reagiscono bene al tentativo di consolarle la sensazione di avere qualcosa in gola al giorno d'oggi sicuramente un sintomo molto diffuso un rimedio post traumatico queste donne hanno subito un trauma nei più dei casi psicologico e non si sono riprese da lì il calium fosforicum già menzionato come sale di schisla è molto molto efficace è questo sì questo nella fase dopo le infezioni già che parliamo della pandemia una cosa che dovrebbe essere presente in qualsiasi studio alfalfa un mix un cocktail anche di un gusto molto molto gradevole devo dire lo utilizzo anche io che contiene moltissime sostanze che danno forza il ginseng ben noto già nella medicina cinese come una pianta una radice che dà forza come tisana come sostanza anche non trattata cioè da mangiare per chi è coraggioso abbastanza qui però nella alfalfa in questa mistura veramente molto molto bene sopportabile moltissime cose tra cui anche alfalfa la erba medica un tonico naturale che serve anche per dare un po' di ferro all'organismo lux vomica conoscete tutti come un ingrediente per chi lavora tanto lavora in modo sedentario anche allora principalmente un medicamento per la convalescenza o per essere fit durante la giornata quando ci sono le sfide anche intellettuali allora l'esaurimento del sistema di adattamento il problema del del nostro secolo direi qua anche se ancora relativamente giovane stress burn out war out brown out depressione sono le parole chiave in questo momento ci sono anche qui delle classificazioni che classificazioni che vi risparmio che potete leggere anche sempre dappertutto sull'internet sono comunque le malattie dei nostri tempi per fortuna abbiamo un po' anche un orientamento con questi checklist del Reckbeck che ci aiutano anche nella diagnosi eventualmente un paziente non è sempre in grado di dirci tutto ma tramite questo aiuto che potete avere sulla vostra scrivania troviamo anche altri sintomi altri fenomeni che sono anche degni di essere trattati voglio solo menzionare che esistono questi elenchi che potete chiaramente avere dalla Reckbeck veloce veloce alcuni casi tipici a volte non semplici come questo qua una donna di 32 anni giovane allora numero uno problema relazionale poi difficoltà professionale un problema quotidiano direi una signora molto sensibile che spesso e tipicamente sente questo fastidio in gola che ci lascia pensare subito alla ignazia oppure anche alla chiesis chiaramente spasmi accusa degli spasmi spesso anche di notte escluso un helicobact mal di testa che si trova quando ha il minimo fastidio spalsi di humor spesso cambia tra riso e pianto che lascia pensare alla pulsatilla chiaramente disturbi del sonno devo dire chiaramente non riceve tutti questi momenti alla volta e chiaramente dobbiamo anche pensare a tutte le altre possibilità che abbiamo come terapisti come medici la situazione qui descritta lascia anche pensare a un problema epatico nel senso della medicina cinese quindi sarebbe eventualmente anche da riflettere su una terapia che coinvolge il fegato una pulizia intestinale una agopuntura lungo il meridiano della cistifellia ad esempio comunque ha risposto molto bene ai diversi interventi e soprattutto il sonno è migliorato tanto e questi spalsi questi su e giù dell'umore non c'erano più complicato altrettanto questo studente di 21 anni giovane ancora che si prepara per un esame chi non conosce la difficoltà davanti a un esame e le paure sono le paure che la mettono proprio in tilt la concentrazione la memoria ciao abbiamo sentito prima cortisolo blocca la memoria cortisolo blocca la parte frontale del nostro cervello il mal di testa è un altrettanto un forte impedimento per il suo lavoro le paure notturne eccetera sono chiaramente estremamente noioso per la stanchezza il giorno seguente una terapia che coinvolge l'intestino ha avuto le tipiche diarree anche da ansia e comunque è riuscita bene con questa terapia a superare i suoi esami il sospetto di una malattia infiammatoria dell'intestino non c'è più uno degli ultimi esempi sarebbe questo un caso semplice un bambino che non vuole andare a scuola perché dorme male ha paura ha ansia per via della situazione vigente ha problemi con la concentrazione è sicuramente una cosa per i prodotti già citati per il recupero abbiamo già menzionato alfalfa il grande medicamento per il recupero dopo una qualsiasi malattia dei bronchi o malattia di infezione in generale le affezioni bronchiali abbiamo già discusso nella seduta precedente e chiaramente ci sono anche gli altri arrivo alla fine una paziente di 60 anni di 50 anni perdonate con una grave diagnosi come possiamo aiutare in questi casi chiaramente abbiamo da coinvolgere tutto quello che sappiamo fare come medici terapisti ma come una terapia di base possiamo dare una mano con grande successo ad esempio con la combinazione tra ignazia il neuroglobin e quieta per concludere vorrei ringraziarvi per la vostra enorme pazienza abbiamo potuto toccare solo un'area straordinariamente vasta abbiamo la possibilità comunque di trovare una strada in questa giungla che ci sta circondando in questa giungla anche di problemi vegetativi e psicologici e abbiamo fortunatamente delle strade di soluzione e di aiuto per i nostri pazienti ringrazio di nuovo ai signori della ditte rechevec che sono rappresentati oggi da te caro paride che ci aiutano sempre in modo eccellente anche con con gli aiuti presentati in questo in questa presentazione a voi cari spettatori cari spettatrici auguro tutto il bene in questa situazione non facile per tutti e vi auguro tutto il bene anche per il vostro lavoro grazie grazie doc io voglio ringraziarti perché come sempre ci sono degli spunti su cui riflettere per le varie terapie per le varie persone che arrivano sia in studio che in farmacia abbiamo delle alternative appunto alla medicina allupatica che non ha alterazioni come diceva lei e sono veramente efficaci in questo periodo appunto delicato della situazione ti ringrazio ancora spero di vedere ancora tutti nel prossimo webinar e una buona giornata a tutti grazie grazie doc grazie a tutti